si presentino Freddara, Riccardo, Paulucci, Giuseppe a seguire si preparino Teresi, Gianmica, Loni e Simone Podio, Serie A 58 di riferire Terza classificata Pauli e Asioni Seconda classificata Anastasia Tonendi Prima classificata Pagliatina del Brano, Pimpazio Serie A 58 di riferire Vi presentino Marra, Salessio e Sieravanti Massimiliano al tappeto di Nero 5 E' un numero 1 Serie A 6 grammi Il ritardo di Martina il sangue del Mere Luca Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve 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 La tappeto prima classificata grazie a pilast, simpatico, serie A 64 fili femminili Io non vado a lavorare, solo слушare le grazie E' una chia, non te ne vado a lavorare, lei non me lo vado a lavorare Matteo, pubblicarmi, azioni, figliotti, tienivene là, t'hanno fatto Non le farò andare via, bisogna rimanere sul podio. Accendi, domani 4. L'appeto numero 1, Serie A, 61 kg, vince Arcella. Grazie. Grazie. Grazie.